Incominciamo? Buonasera, intanto ringraziamo la nostra interpreta dell'IS che è qui con noi e ritorna con noi Vittoria Caricato. Ringrazio anche il professore Massimo Antonelli che è il direttore... Roberto Bernabèi, scusate. Presidente dell'Associazione Italia Longeva e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 98.273 con incremento di 1.396 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa. Ad oggi sono infatti 3.497 i pazienti in terapia intensiva, meno 108 rispetto a ieri e 28.242 sono i pazienti ricoverati con sintomi. Rispetto a ieri c'è una diminuzione di 157 unità, mentre la maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 66.534, il 68% dei pazienti. Oggi registriamo in un numero di deceduti di 579 deceduti. Il totale dei guariti sale a 30.455, 1985 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il trend generale di crescita dei contagi, il trend mostra un incremento di 3.951 unità, 9 persone contagiate rispetto a ieri, che porta il totale dei casi a 147.577, comprensivi quindi sia delle persone attualmente positive che di quelle decedute e di quelle guarite. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare il numero dei volontari, 16.419, che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario. Io mi fermerei qui. Professore, se vuole fare un breve intervento. Come sapete oggi c'è anche la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi oggi non faremo le domande e cercheremo di essere brevi nella nostra comunicazione. Sì, molto breve perché credo sia anche molto importante quello che dirà il Presidente del Consiglio. Io vi lascio solo una riflessione che nasce dai dati che ha presentato oggi l'Istituto Superiore di Sanità, dove si è visto e si è confermato, e ve lo dico semplicemente perché ho visto che il dato aumenta, che la comorbilità, quello che si, la parola che si utilizza per dire quando hai più malattie insieme, gioca un ruolo importante in questo coronavirus, perché si è visto che il 63 per cento dei deceduti aveva tre o più patologie. Questo è un dato che ci dice due cose. Uno che bisogna, se uno è in questa situazione, ovviamente essere molto attenti e seguire le terapie e i programmi che il vostro medico vi ha dato. Dall'altra parte, ed è una, come dire, delle novità che emergono anche da questo tipo di patologia, che le strutture sul territorio, e il Ministro Speranza da questo punto di vista è molto determinato, le strutture sul territorio devono essere potenziate. Assistenza domiciliare, RSA con tutte le problematiche che sono emerse in questi giorni, cure palliative e hospice, post-acuzie, riabilitazioni, sono tutte strutture che devono essere potenziate, perché chi è che ha più di una patologia è evidente che non beneficia solo del ricovero ospedaliero, ma beneficia di una gestione cronica nel territorio di queste patologie. E il rafforzamento di un' assistenza domiciliare in particolare, che è particolarmente invece, scusate l'utilizzo di troppe parole uguali, che è molto bassa nel nostro Paese, deve essere invece potenziata. Su questo c'è un forte intendimento e, come dire, è uno delle fallout positivi che usciranno da una vicenda che certamente positiva non è. Buona serata a tutti Grazie, buona serata